Benvenuti all'ultima edizione del nostro telegiornale, l'aggiornamento sul coronavirus ancora impennata di casi in Molise con 30 nuovi contagiati riportati nell'ultimo bollettino dell'ASREM, 904 i tamponi processati, nelle ultime ore un record dall'inizio della pandemia da registrare anche tre dimessi da malattie infettive, una persona di Campobasso e due di Termoli e un nuovo ricovero sempre in malattie infettive una persona di Oratino, 4 i guariti, 2 di Termoli e 2 di Campobasso. Casi riscontrati al Cardarelli di Campobasso, alla Gea Medica di Isernia e al Neuromed, ma sentiamo tutte le novità e i particolari nel servizio di Marta Martino. Boom di contagi in Italia, 7.332 casi, circa 2.000 più del giorno precedente, su oltre 150.000 tamponi. Contagi in aumento anche in Molise, in base all'ultimo bollettino diramato dall'ASREM i nuovi casi sono 30, su 904 tamponi processati, numero mai raggiunto finora. 3 i casi a Campobasso, 6 a Disernia, 3 a Boiano, 4 a Castelpetroso, 2 a Cerro al Volturno, 1 a Forlì del Sannio, 1 a Larino, 1 a Macchia Godena, 1 a Doratino, 2 a Pozzilli, 1 a Rionero, 1 a Sesto Campano, 1 a Benafro, 1 a Toro, 1 a Sant'Agapito, 1 a Sant'Elia a Pianesi. Tra questi casi figurano un infermiere del Cardarelli trovato positivo al Covid che ha infettato altre 7 infermieri, un anestesista e un ex dipendente. Sono già stati effettuati tamponi alle persone che sono entrate in contatto con loro, sia tra i familiari che nel reparto. L'infermiere della sala operatoria, come gli altri positivi, è stato messo in isolamento. I casi di Pozzilli sono localizzati al neuromed, un medico senza sintomi, risultato positivo dopo controlli di routine del personale e un altro medico assente dal lavoro da una settimana. La comunicazione è arrivata dall'asla di residenza. Casi positivi anche alla Gea Medica di Sernia, due assistiti e un dipendente delle pulizie sono stati trovati positivi dopo il tampone. I pazienti e i loro contatti sono stati messi in un'ala separata dell'edificio, mentre tutti gli ospiti della casa di cura sono stati sottoposti a controlli. Attualmente sono 256 positivi al Covid in regione, 7 sono ricoverati a malattie infettive del Cardarelli, 4 sono i guariti. Sulla gestione dell'emergenza Covid, la regione continua ad accusare ritardi e l'analisi del consigliere regionale Vittorino Facciolla, che contesta la posizione del governatore Toma, secondo il quale la situazione sarebbe sotto controllo. Sentiamo Pasquale Di Bello. Sulla gestione dell'emergenza Covid, versioni diametralmente opposte tra maggioranza e opposizione in consiglio regionale. Secondo il governatore Toma, la situazione è sotto controllo e non bisogna cedere al panico. Sul fronte opposto arrivano invece dal segretario regionale del PD, Vittorino Facciolla, critiche legate alla gestione delle operazioni in corso. Ma io ribadisco al presidente Toma che le denunce che vengono alla minoranza sono per stimolare la maggioranza e chi decide, quindi il decisore politico a fare le cose meglio di come le sta facendo. E così anche all'azienda sanitaria regionale. Quindi lo spirito di critica è sempre in funzione di una proposta e mai di una demolizione. Quando si sente dire al presidente Toma che non è possibile fare il drive-thru, quindi utilizzare le autovetture, quindi il percorso nell'autovettura per prendere il tampone perché non c'è il personale, siamo di fronte al fallimento della politica. Quindi Toma in sostanza dice che dopo due anni e mezzo lui non è in grado di trovare due infermieri che sappiano fare il tampone attraverso questo sistema. Così come dopo cinque mesi trascorsi inutilmente non abbiamo un centro Covid che possa dare nell'immediatezza risposte. Se questo di Campobasso è ancora promiscuo e i lavori non si avviano proprio al fallimento della politica, Toma diciamo di fare le cose utili per i molisani. Facciolla interviene anche sul tema dei trasporti legato alla scuola, si dice contrario alla didattica a distanza per le ultime classi di alunni delle scuole superiori. Noi siamo socialmente distanziati, per me resistenza in vita, ne siamo così pochi, e quindi abdicare al ruolo e alla funzione anche delle scuole superiori anche nell'ultimo periodo di studi in questa fase mi sembra non pensabile. Io dico invece che ciò che serve è un'organizzazione che sia in grado di stanare e isolare immediatamente gli eventuali positivi. Abbiamo più volte ribadito l'esigenza di fare i tamponi rapidi, di fare il sierologico, di attuare un percorso, una procedura, un protocollo che dia certezza nei comportamenti. Questo lo si sta facendo a spizzi che lo abbiamo più volte denunciato. Pensare da subito ora in questo momento di chiudere le scuole superiori perché non si è in grado di offrire nel nostro territorio, dove siamo davvero pochi, un sistema di trasporto adeguato mi sembra davvero abdicare al ruolo e alla funzione, ma questo Governo regionale lo fa spesso e volentieri. A partire da domani il 50% dei dipendenti degli uffici comunali di Campobasso potrà lavorare in modalità smart working. Lo ha deciso l'Aggiunta Comunale, accogliendo così le indicazioni contenute nell'ultimo DPCM. Il provvedimento che rientra tra le iniziative per contenere e gestire il contagio da coronavirus sarà in vigore per la durata della fase acuta dell'emergenza. Adesso i lavori di ricostruzione post-sisma che possono partire lo assicura il Governatore Donato Toma che ha incontrato i sindaci dell'area colpita dal terremoto del 2018. È stata istituita anche una struttura di supporto alle attività del commissario. Sentiamo Andrea Nasillo. Possiamo affermare con assoluta certezza che ci sono tutte le condizioni perché la ricostruzione possa partire ufficialmente. Lo dice il Presidente del Molise Donato Toma a margine della riunione a Palazzo Vitale con i sindaci dei comuni interessati dalla fase post-sisma 2018. Un vertice voluto dal Governatore recentemente nominato commissario straordinario per la ricostruzione. Un incontro per annunciare anche l'istituzione di una struttura di supporto che lo affiancherà nelle funzioni a lui demandate vale a dire nella riparazione, nella ricostruzione degli immobili, nell'assistenza alle popolazioni, nella ripresa economica dei territori dei comuni della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici. Presente all'incontro anche il commissario straordinario dell'Agenzia regionale post-sisma, Giuseppe Cutone nominato dal Presidente Toma responsabile del nuovo impianto commissariale. La nuova struttura in linea con quanto auspicato dal Dipartimento Casa Italia sarà, ha detto ancora Toma, un acceleratore nelle procedure alle volte complesse e faraginose che caratterizzano le varie fasi procedurali della ricostruzione ma svolgerà anche funzioni di consulenza e di supporto tecnico. Sarà un valido sostegno, ha concluso il Governatore, per i comuni chiamati a rispondere come soggetti attuatori, spesso a corto di personale e talvolta privi di mezzi tecnici per intervenire. Che sia la volta buona, la pazienza della gente è ormai finita. Nell'area del Basso Molise, tra i 21 paesi danneggiati dal terremoto del 2018, vivono ancora centinaia di persone sfollate a causa di altrettanti edifici censiti inagibili, comprese le strutture pubbliche e le chiese. Il Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale ha ottenuto un consiglio monotematico sul Recovery Fund per consentire all'Assemblea regionale di stabilire le priorità e i progetti che l'Aggiunta dovrà portare ai tavoli nazionali per rilanciare il Molise. Nei prossimi mesi dall'Unione Europea arriveranno risorse economiche di portata storica. Abbiamo il dovere, dicono i 5 Stelle, sia nei confronti dei cittadini sia della nostra regione di ragionare insieme a tutte le forze politiche presenti in Consiglio sugli obiettivi da raggiungere per impiegare al meglio queste risorse e renderle strategiche per lo sviluppo della regione. Per il Movimento 5 Stelle le priorità sono chiare, infrastrutture fisiche e digitali, lavoro e sanità, ma anche innovazione, scuola e formazione e ambiente. I lavori del Consiglio regionale movimentati dalle proteste all'esterno dell'Aula, due i presidi presenti, quello dei lavoratori gamma in attesa di notizie certe sulla cassa integrazione e sviluppi dell'avvertenza e quello dei genitori, dei ragazzi, degli alunni di Lupara che chiedono garanzie e sicurezza per il trasporto scolastico. Sentiamo ancora Pasquale Di Bello. Quella del Consiglio regionale del Molise è una vita scissa in due, da una parte i lavori interni all'Aula, regolati da un andamento lento e a tratti soporifero, e dall'altro all'esterno da un clima costante che porta sulla scena le proposte a scoppio e detonazione dei picchetti di turno. Questa mattina davanti all'Aula di Palazzo Daimmo a far sentire la loro voce c'erano i lavoratori della GAM in attesa di notizie certe sulla loro vertenza e i genitori di Lupara che hanno manifestato la loro preoccupazione per la questione legata al trasporto scolastico nei piccoli comuni. Insieme ai lavoratori della GAM c'erano i sindacati, la richiesta che viene a gran voce è quella di far rientrare la vertenza nell'ambito dell'area di crisi complessa dalla quale al momento è invece fuori. Siamo al fianco degli operai della GAM perché in effetti è l'unica manifestazione reale che insiste in un'area di crisi complessa che può essere recuperata. Voglio usare un efeimismo, qualche disattenzione ha generato il mancato rifinanziamento dell'area di crisi complessa morisana perché non sono state investite le risorse per l'anno 2019. La voglio chiamare disattenzione, la aggiungo a quella della mancata richiesta di cassa Covid-19 che stiamo provando a recuperare. Chiaramente questi lavoratori non vogliono solo ammortizzatori sociali e non vogliono assistenzialismo, vogliono lavoro. Il presidente della regione Toma sul tema manifesta un cauto ottimismo legato sia alla possibilità concreta di ottenere la cassa Covid sia alla presenza di player interessati alla ripresa produttiva. Stiamo andando verso la cassa Covid, l'amministratore si è attivato, la regione sta istruendo questa pratica, se il ministero ci darà la sponda, come io penso, nove settimane di cassa Covid potranno essere assicurate. Stanno andando avanti gli studi che sta facendo questo player sul territorio, ma non c'è solo questo player, per la verità si è risvegliato anche l'interesse di altro player, quindi noi siamo ottimisti. Oltre ai lavoratori della GAM, stamattina davanti al Consiglio è la protesta dei genitori di Lupara, che chiedono garanzie e sicurezza per il trasporto scolastico. Un tema che riguarda, dicono, 120 comuni molisani che si trovano a gestire una questione complessa legata all'andamento della pandemia. Questo problema è nostro adesso, però ci hanno scritto genitori di tutti i comuni molisani pregandoci di andare avanti in questa protesta, perché il problema è di tutti. Siamo 120 comuni che hanno questo problema. Noi siamo una popolazione di 200.000 abitanti, siamo un quartiere di Roma. Possiamo pensare che abbiamo 120 scuoli in un quartiere di Roma. È impensabile. 8, 9, massimo 10 poli scolastici risolverebbero la questione scuola in tutto il Molise. Alla fine del confronto con i genitori, sia il presidente della regione Toma, sia l'assessore Arramo Pallante, hanno assicurato l'apertura di un tavolo di confronto sul tema per la prossima settimana. Via libera alla disciplina dei distretti del cibo e il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità oggi la legge. Un progetto nato dal territorio per servire il territorio attraverso la tutela delle sue identità e la valorizzazione del cibo, che mai come ora è divenuto uno strumento sociale, economico e culturale di assoluto prestigio. Ha detto l'assessore all'agricoltura Nicola Cavaliere, legge che ha continuato ringraziando i colleghi per quanto fatto, è figlia di un costruttivo gioco di squadra e che punta a creare un legame sempre più stretto e fecondo tra le imprese locali e i prodotti agricoli e alimentari che la regione è in grado di offrire. Si vuole sviluppare sempre di più una logica di qualità e di filiera, la promozione del Made in Molise a livello nazionale e internazionale. E, a concluso Cavaliere, soprattutto la definitiva emancipazione delle nostre migliori eccellenze. I distretti del cibo rappresentano un'opportunità per le aziende che vogliono aggregare e investire per lo stesso territorio. Elezione dei nuovi amministratori al consorzio di bonifica di Venafro. Probabilmente la vicenda finirà nelle mani dei giudici, come preannunciato dalla Coldiretti. Intanto, Vittorio, no, la replica. Così alle dichiarazioni dell'assessore regionale Vincenzo Cotugno. Ascoltiamo Enzo Di Gaetano. Finirà quasi certamente nelle mani degli avvocati l'esito dell'elezione per il rinnovo degli amministratori del consorzio di bonifica di Venafro. Perlomeno è quello che si appresta a fare la Coldiretti, che contesta l'autentica delle firme dei sottoscrittori eseguita al di fuori della sede dell'ente. Per la Coldiretti non si poteva fare, ed è più che probabile, un loro ricorso. Per Vincenzo Cotugno, invece, è l'inizio di un nuovo corso. L'assessore regionale formula i migliori auguri alla nuova governance e apre alla collaborazione. La grande partecipazione al voto, afferma, ha dato dimostrazione che la volontà unanima era di avere una governance scelta dai suoi elettori e capace di ripartire dalle secche di questi ultimi anni con azioni incisive per gli imprenditori agricoli e di proprietari terrieri. Il vuoto di questi anni, che ha lasciato i consorziati senza guida e senza risposte ai loro quotidiani problemi, andava decisamente colmato, evitando così un lungo e inutile commissariamento immediata alla replica Cotugno dell'ultimo presidente eletto, Vittorio Nola, consigliere regionale dei Cinque Stelle, che afferma, il consorzio di bonifica della Piana di Venafro è un ente pubblico economico a gestione privatistica. La regione molise, infatti, è un semplice socio e ha il dovere di esercitare il controllo attraverso i suoi rappresentanti, compreso il commissario, quando nominato, e il revisore unico. Nel gennaio 2017, improvvisamente, il consorzio della Piana di Venafro fu commissariato solo per scopi politici, afferma Nola, anche da Vincenzo Cotugno, con i conti che erano a posto. Ora, nell'ottobre 2020, la competizione elettorale è stata negativamente influenzata dalle non decisioni del commissario sulla corretta applicazione del norme, nonché sulla gestione del personale dell'ente. Niente da dire sui singoli candidati eletti, ma ognuno di loro deve passarsi una mano sulla coscienza e chiedersi se tutte le regole siano state rispettate e, come loro, anche Vincenzo Cotugno dovrebbe riflettere prima di rilasciare commenti inappropriati. 77 anni fa l'eccidio di Tavenna. Un cittadino del posto e un carabiniere di Colletorto furono trucidati dalle truppe naziste. Ogni anno la commemorazione sul luogo del massacro, un modo per non dimenticare. Sentiamo Andrea Nasillo. Una delle pagine più dolorose della storia molisana che abbraccia due paesi, Tavenna e Colletorto. 77 anni fa, il 13 ottobre, presso Fonte Canaparo, le truppe nazifasciste fucilarono barbaramente tre ostaggi a seguito del ferimento di un soldato tedesco da parte di un cittadino del posto per difendere i suoi animali. Gli ostaggi vennero scelti per caso tra la folla radunata con la forza delle armi nello spiazzo più ampio del paese. Ignari della tristissima decisione di morte, poco dopo vennero portati alla fontanella Canaparo. Qui all'ombra di grosse querce secolari, Giuseppe di Lena, cittadino del luogo, e due carabinieri provenienti da Lanciano, Vincenzo Simone di Colletorto e Giovanni Iuliano di Tavenna, furono costretti a scavarsi la fossa. Improvvisamente vennero abbattuti dai colpi del plotone di esecuzione, ma il carabiniere Iuliano si finse morto e riuscì a scappare. Fu curato da un medico e si salvò. Alla commemorazione presenti i vertici dell'arma dei carabinieri, il sindaco di Tavenna Paolo Cirulli, quello di Colletorto Cosimo Mele, il parroco Don Vincenzo e le famiglie delle vittime. Da Termoli anche il consigliere comunale Francesco Rinaldi. Ogni anno per i due centri molisani è il momento della memoria. Ci troviamo qui ogni anno perché bisogna ricordare, bisogna ricordarlo sempre a noi stessi e anche alle generazioni future. Quello che è accaduto, quella cosa terribile che accadde qui tra 18 ottobre 1943. Ritrovarsi intorno alle due croci in memoria di Giuseppe Di Lene e di Vincenzo Simone significa stabilire un filo diretto in difesa della vita. Il carabiniere Simone deve essere un esempio per i giovani. Il senso di appartenenza a un popolo, il senso di appartenenza a una società, il senso di appartenenza alla vita, perché comunque lui era un giovane carabiniere che aveva tanto ancora da vivere che invece ha dato la sua vita al servizio degli altri. Il passato non va dimenticato e spesso diventa una drammatica lezione. È da questo luogo che noi dobbiamo trarre una delle lezioni più importanti per fare memoria. Non bisogna mai dimenticare gli eventi più brutali che hanno segnato la storia degli uomini e la storia delle civiltà. Chi verrà dovrà conoscere la storia e patrimonio, anche se spesso dolorosa. La riflessione che noi dobbiamo fare, oltre a ricordare queste cose, è cercare di capire che cosa bisogna fare oggi per evitare che queste cose si ripetano. Perché a suo tempo si decise di cancellare la memoria di quegli fatti orrendi che sono successi e la memoria si è cancellata per un lungo periodo di tempo, sia per convenienze politiche, sia per orrore e paura delle persone che avevano vissuto quelle cose. E ora occupiamoci di un delicato e allo stesso tempo innovativo intervento chirurgico eseguito a Campobasso dal dottor Francesco Laurelli che ha effettuato un parziale trapianto di cornea su un bambino di otto anni. L'intervista è di Antonio Di Lallo. Dottor Francesco Laurelli, ultimamente un bambino di otto anni che aveva praticamente perso la vista per un trauma, è stato operato ma con un trapianto di cornea parziale. Sì, la novità degli ultimi anni è proprio questa. Esiste un nuovo laser che si chiama Femto che ci permette di fare dei tagli corneali estremamente sottili e molto precisi. Questo ci permette anche di trapiantare soltanto piccole porzioni di cornea e non più tutta la cornea come si faceva negli anni addietro perché il trapianto, specialmente in pazienti molto giovani, in questo caso un bambino di otto anni, può dare come effetto collaterale più frequente il rigetto. Poi lì insomma cominciano problemi anche molto più gravi per cui diventa complicato poi gestirli. Invece con i trapianti lamellari, con questo laser Femto, riusciamo a trapiantare porzioni sottilissime di cornea. Si fa senza sutura, quindi non ci sono più punti di sutura e soprattutto non c'è più il rigetto. Soprattutto questo bambino praticamente rivede bene. Allora il bambino noi l'abbiamo rivisto dopo un giorno, dopo quattro giorni. Dopo quattro giorni il bambino aveva recuperato una vista di circa 8 su 10, quindi un risultato direi eccellente. Poi è chiaro che ci sono altri problemi tecnici che è un po' complicato da spiegare, però ammesso che rimanga in questo valore sugli 8 decimi, il risultato lo riteniamo assolutamente soddisfacente. Ecco, è un risultato davvero incredibile se si pensa come è stato realizzato. Perché sostituire, a dire, sembra facile, però in sostanza è un intervento di microchirurgia che poi bisogna valutare molto bene. Sì, la tecnologia sta facendo passi da giganti, ma anche la tecnica, non solo la tecnologia sta cambiando. Noi venerdì faremo un altro trapianto molto simile a questo, l'abbiamo definito in questi giorni, opereremo un magistrato della provincia di Salerno. Questa volta trapianteremo una parte della cornea ancora più sottile, la parte endoteliale. che il paziente sostanzialmente oggi è cieco e speriamo con questa tecnica di portarlo almeno a una visione sui 4-5 decimi che sarebbe già un risultato molto buono. Nel bambino la cosa che più ci colpisce è che la corrigione è estremamente rapida. Mentre prima in trapianti avevano tempi di corrigione che potevano arrivare anche a un anno, un anno e mezzo, oggi nell'arco di una settimana il paziente torna alla vita normale. Siamo arrivati al comune di Isernia i progetti di borse lavoro al fine di sviluppare percorsi di integrazione e favorire l'inserimento e il reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati. Il contributo previsto sarà di 550 euro per un impegno di 18 ore settimanali per 8 mesi. A Torella del Sannio, nella sala convegni Don Antonio Cerrone, si è svolta la decima edizione del Memorial in ricordo di Francesca Meffe. Sentiamo Patrizia Testa. Da dieci anni a Torella del Sannio si svolge il Memo Festival della lettura Francesca, un memorial per ricordare Francesca Meffe, una giovane donna che amava leggere e scrivere. Sono dieci anni a qualche giorno che le è venute a mancare e abbiamo pensato a questo Memo Festival che la ricordasse con tanta allegria, così come era lei, la sua passione per la lettura. Aveva sempre questo compagno di vita che era un libro sempre a portata di mano. Il Festival ha lo scopo di avvicinare i ragazzi alla lettura e alla scrittura creativa. È un festival che nasce dal ricordo di Francesca Meffe, che era responsabile della Biblioteca Comunale di Torella, quindi appassionata della lettura, della cultura, dei libri. Quindi la scelta della famiglia dal primo momento è stato quello di ricordarla proprio attraverso la cultura e attraverso i ragazzi che sono probabilmente i migliori fruitori dei libri, o almeno speriamo che sia così. Al Memorial è legato proprio un concorso di scrittura rivolto agli studenti delle scuole medie. Hanno partecipato quest'anno i ragazzi di diversi istituti molisani e si sono dovuti cimentare nell'elaborazione di un articolo di giornale, tema scelto, il rientro a scuola dopo il Covid. Una giuria tecnica ha valutato gli iscritti premiando i più meritevoli, anche se sono stati lodati tutti i partecipanti, circa un centinaio. Francesca era curatrice della Biblioteca Comunale che l'è stata poi intitolata nel 2016. Io non ero in carica in quel periodo, però il mio successore e predecessore sindaco, Giovanni, ha fatto tanto per rintestare, dedicare la Biblioteca Comunale di Torella a Francesca Meffe, perché la meritava, la merita e la meriterà sempre. Quindi è stata una grande, brava e bella coordinatrice di Francesca. Quindi questi anni che passano, che noi ricordiamo sempre Francesca, sono sempre all'insegna della cultura, della trasparenza, dell'educazione, ma soprattutto della razionalità in cui Francesca è nata e continua a vivere in questa maniera. Riprendono a Isernia le lezioni della Scuola di Formazione Teologica San Pietro Celestino rivolte a tutta la comunità. Sentiamo Barbara Fino. Inaugurata dopo il periodo di chiusura a causa del coronavirus, la Scuola di Formazione Teologica San Pietro Celestino. Pronti dunque professori ed alunni a riprendere le lezioni dei teologi e l'approfondimento sapienzale sui testi sacri e a cimentarsi su quelle discussioni capaci di aprire cuore e mente. La Scuola Diocesana di Formazione Teologica rappresenta un'opportunità culturale unica nel suo genere, commenta il direttore della Scuola, Frate Nazario Vasciarelli, ed è rivolta a tutta la comunità diocesana, a tutti gli uomini e le donne delle nostre parrocchie, per l'approfondimento della fede e della cultura religiosa. Possono partecipare tutti gli uomini e le donne di buona volontà, che vogliono approfondire la conoscenza della teologia e della pastorale. Chiaramente sono invitati molti operatori delle nostre parrocchie, le nostre comunità parrocchiali, perché tutto ciò che loro ricevono nelle nostre lezioni può servire anche per aumentare la conoscenza della teologia e della pastorale all'interno delle comunità nostre della diocesi di Sernia Venafro. Presente alla lezione inaugurale, Monsignor Camillo Cibotti per la benedizione e l'apertura ufficiale, e Padre Luciano Verdoscia, comboniano, esperto di Islam. L'invito per la comunità, secondo Frate Luciano, è quello di percorrere il cammino intrapreso da Papa Francesco, di riscoprirsi fratelli con le altre comunità religiose, per promuovere insieme la giustizia e la pace. Papa Francesco si pone in questa scia, così come sono stati i suoi predecessori, e noi adesso stiamo considerando questo ultimo documento sulla fratellanza umana, firmato dallo Sheikh del Lazar del Cairo e da Papa Francesco. Ma poi, in seguito a questo, c'è stata anche l'ultima enciclica che ricorda questo evento e che si chiama appunto Fratelli Tutti. E tutto termina qui anche l'ultima edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguito e arrivederci. Grazie per aver guardato il nostro canale